35 35 35 V'aeroportu All'aeroporto All'aeroporto Ja hotiv bi zabrunjuvate kwetok do Afin. Vorrei prenotare un volo per Atene. Vorrei prenotare un volo per Atene. C'è primo i race? È un volo diretto? È un volo diretto? Vodlaska misce bilevikna dla nekuriasciach. Per favore, un posto vicino al finestrino, non fumatori. Per favore, un posto vicino al finestrino, non fumatori. Vorrei confermare la mia prenotazione. 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 Quando parte il prossimo aereo per Roma? Quando parte il prossimo aereo per Roma? Ci sono ancora due posti liberi. No, abbiamo solo un posto libero. Quando parte l'autobus per il centro? Quando parte l'autobus per il centro? È sua questa valigia? È sua questa valigia? È sua questa borsa? È sua questa borsa? È suo questo bagaglio? Quanto bagaglio posso portare? Quanto bagaglio posso portare? 20 kg 20 kg 20 kg geben Come solo 20 kg?